3, 2, 1. Ma che c***o è? 3. Da quanto tempo uscite insieme? Un anno e mezzo. Sì. Abbiamo creato una famiglia. Avete un figlio? Esatto. E tu ne hai un altro? Ne ho due d'altre donne. E le sue ex sono due s***e. Due ex. Quindi hai tre mamme distinte. Sì. E voi due non vivete insieme, no? Davvero? E non volete nemmeno sposarvi. Per il momento, no. Ci arriveremo piano piano. Un passo alla volta. Ma quando dice piano piano, intende tipo tartarughe. Io vorrei... E come mai non vivete insieme? Ci lasciamo praticamente ogni giorno. Aspetta, cosa? Mi prendi in giro? Siamo testardi e nessuno dei due ammette di avere torto. Ma siamo davvero innamorati. Veniamo ai tatuaggi. Ehi, amore. Ciao. No, mamma. Ti odio davvero. Non so cosa cavolo ho sulla gamba. Ormai è fatta. Non ci resta che vedere. Vieni con me. Io mi nascondo dietro di te. No, sono incinta. Ragazzi, ho il cuore che va a mille. Ho paura. Fai bene. Corey, stai zitto, sennò ti do un pugno in faccia. Questo ti fa a pezzi. Non ho dubbi. Ma lui ti ha già fatta a pezzi. Dovrai vivere con questo tattoo gigante sulla gamba per sempre. Ci scriverò riposa in pace, Corey, accanto. Melody. Tu sei un cretino. È un tattoo molto grande. Oh, mamma. Cavolo, è orrendo. En, sei pronta a vedere il tattoo che avrai sul corpo per il resto della vita? Ovviamente no. Non ce la faccio più. Tre. Due. Uno. Ma che c***o? Non capisco cosa significhi. Ti faccio vomitare? No. In che senso, no? C'è uno che sta per vomitare sulla mia gamba. Sono sulle montagne russe. Ok. Noi abbiamo molti alti e bassi, come essere sulle montagne russe, insomma. Chiunque lo vedrà penserà la stessa cosa. Ti faccio vomitare? Sì o no? Non è così che lo vedranno. Perché io lo vedo così? Sei un cretino. Sono stufo dei tuoi capricci da bambino. Voglio un rapporto felice. Punto e basta. Beh, la tua faccia da scemo è venuta bene. Non hai ancora visto il tuo, quindi... Ok. Come assicuro. Bene, resta solo una cosa da fare. Fate cambio. Oh, cavolo. Non si tolgono finché non lo diciamo. Corey, come ti senti? Nervoso. Eh, a mille. Ehi, Travis. Mi spiace, bello. Devo strappare. Stai tranquillo. Oh, è enorme, cavolo. Oh, c***o. Non è terrificante. Non è bello. E tu sei malata. Voi due siete davvero fatti l'uno per l'altra, visti i due tattù mostruosi. Sì, sono tetra, lo sai. Lo so benissimo. Tre mamme diverse. Conto alla rovescia dal tre. Tre. Due. Uno. Sai cosa significa? La terza fortunata sono io? La terza madre dei miei figli? La migliore? Ecco perché le altre sono solo ombre. E gli anelli? Che vorresti dire? Credo che tu stia trascinando questa storia. Questo è un ultimatum. Per cosa? Credo che sia ora di dirgli l'intera storia del tatuaggio. Sto cercando di dirti che ti amo. So che ci tieni a me, ma al tempo stesso ci stai mettendo troppo a dimostrarmelo. Quindi prendo l'iniziativa. Che c***o hai? Dico sul serio? Tu ci hai messo troppo. Non c'è bisogno di essere tradizionali. Oh, c***o. Ok, muoio. Abbiamo fatto tutto in maniera particolare. Quindi rispondi sì o mi lasci qui? Convinto che smetterai. Ovviamente voglio sposarti. Ti sposerei anche subito. Basta rimandare questa cosa. Ecco. Oh, mamma mia. E vai. Sì. Bravi. Dai, bacio. Bacio. Buongiorno. 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 Buongiorno.